Musica Dovrà rispondere di furto con strappo e detenzione illecita di sostanze stupefacenti il diciottenne arrestato dai carabinieri di Castellano Grotte in provincia di Bari per aver tentato di portare via dei cellulari dalle mani della sua ex convivente mentre la ragazza passeggiava per strada. Fermato dai militari è stato perquisito. In tasca gli hanno trovato anche alcune dosi di hashish e chetamina. Ora è agli arresti domiciliari.